ciao bentornate bentornati vi propongo un problema di fisica molto carino dai risvolti interessanti immaginate di avere un contenitore pieno d'acqua fino all'orlo e un grosso blocco di ghiaccio importante che il ghiaccio galleggia nell'acqua senza toccare il fondo si chiede se il ghiaccio fonde completamente l'acqua esce dal bordo e potete ignorare il fenomeno della tensione superficiale che permette all'acqua di andare un pochino oltre il bordo senza uscire quindi più in generale potremmo chiedere se il ghiaccio fonde completamente il livello dell'acqua sale oppure rimane invariato o addirittura scende se vuoi pensarci per conto tuo metti in pausa e tra un attimo vediamo la soluzione allora da una prima riflessione verrebbe da rispondere affermativamente perché la parte di ghiaccio esterna fondendo andrà ad aggiungersi all'acqua quindi farà salire il livello dobbiamo però tenere conto di un secondo aspetto che invece contribuirà a far diminuire il livello vediamolo insieme come è noto quando l'acqua congele diventa ghiaccio aumenta di volume è per questo che il ghiaccio galleggia perché è meno denso vi sarà magari capitato di dimenticare una bottiglia chiusa in freezer e congelando rischia di scoppiare perché l'acqua congelando aumenta di volume chiaramente se poi il ghiaccio fonde e torna acqua allora diminuisce il suo volume e torna alla situazione iniziale e quindi questa diminuzione di volume che riguarda anche la parte immersa nell'acqua tenderà a far scendere il livello e non è che per caso questa diminuzione andrà a compensare la parte di acqua che invece viene introiettata dentro il contenitore dalla fusione del ghiaccio esterno beh se si osserva il fenomeno da un punto di vista sperimentale succede proprio questo vi invito a provare potete prendere un contenitore graduato riempirlo di acqua e ghiaccio senza che il ghiaccio tocchi il fondo però potete metterne quanto volete e noterete che fondendo il ghiaccio non porterà a un aumento del volume e ora insieme in modo dettagliato ma senza nessun calcolo perché le due parti si compensano perfettamente come noto ciascun corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto chiamata forza di archimede o spinta idrostatica se il ghiaccio galleggia la forza di archimede è esattamente uguale al peso del ghiaccio perché un corpo inquiete se la somma delle forze è uguale a zero e quindi le due forze si devono equilibrare inoltre il principio di archimede afferma che la forza di archimede è uguale anche al peso dell'acqua spostata dal ghiaccio cioè il peso che avrebbe l'acqua che occupa il volume di ghiaccio immerso nell'acqua stessa ma se questi due pesi sono entrambi uguali alla forza di archimede allora sono anche uguali tra loro e quindi il peso complessivo del blocco di ghiaccio è uguale al peso di quella ipotetica quantità d'acqua che ha un volume pari al volume del ghiaccio immerso ma quindi se il ghiaccio ha lo stesso peso dell'acqua spostata quando torna ad essere di nuovo acqua occuperà esattamente lo stesso volume dell'acqua spostata perché se ha lo stesso peso ed è fatto della stessa sostanza occupa anche lo stesso volume in conclusione il livello dell'acqua rimane immutato io credo che archimede abbia compreso il suo principio proprio osservando il fatto che il ghiaccio fondendo non va ad aumentare il livello dell'acqua ma questa è una mia opinione personale chiaramente tutto questo discorso vale solo se il ghiaccio galleggia completamente nell'acqua se invece il ghiaccio fosse adagiato sul fondo allora in questo caso la spinta di archimede è minore del peso del ghiaccio e quindi in questo caso il ghiaccio fondendo andrà ad aumentare il livello dell'acqua e questo è abbastanza interessante quando si parla di cambiamenti climatici perché come sapete lo scioglimento dei ghiacci porta a un innalzamento del livello dei mari però questo riguarda solo il ghiaccio che appoggia su terra ad esempio solo il ghiaccio del polo sud invece il ghiaccio proveniente dal polo nord che è il ghiaccio che galleggia sul mare anche se fonde non porta a un innalzamento del livello dell'acqua spero che hai trovato il video interessante se vuoi vedere altri video va in descrizione ho messo tutti i link alla mia playlist ci sono video di matematica e di fisica se questi argomenti ti interessano metti like iscriviti al canale ciao grazie